Beh, Chierio, stato chiamato in causa, da tonda anche io mi chiedo, ci sono le condizioni di mercato sostanzialmente, ci sono le condizioni tecniche, c'è l'amministrazione che ha parlato con estrema chiarezza su quelli che sono gli obiettivi, nel primo punto si parla di risorse economiche che esistono, quindi a questo punto non siamo più leggermente ottimisti, lei ha posto potenze, meglio che vada via, comincia a lavorare perché non c'è più tempo, cos'è che non funziona, cos'è che serve per far scattare questo meccanismo? Lei ha citato, la notizia del giorno per me è che ci sono i soldi, adesso poi lo chiediamo perché anch'io sono abbastanza stupito, è la notizia che mi ha capito di più, non c'è problema perché i soldi sono nelle banche, è di oggi perché ieri non era così, la notizia è di oggi. Salutiamo l'assessore, grazie l'assessore, si dispiace perché era assolutamente interessante questa discussione. Devo dire che buona parte delle cose che volevo dire è che volevo rappresentare oggi, l'assessore da Curti, ma perché è da un paio d'anni che abbiamo un confronto su queste cose notevole perché io ritengo che ormai gli obiettivi degli imprenditori, che probabilmente in passato sono stati diversi, c'era un'emergenza abitativa, quindi l'obiettivo era quello di avere tanto volume per soddisfare questa domanda. A prescindere da una situazione particolare, per non dire drammatica, economica attuale, che vede un totale ingessamento del mercato e quindi anche della disponibilità a pensare, ad immaginare e ancor meno ad investire da parte del mondo dell'impresa, del settore privato, ma la presa di coscienza che è molto culturale, io penso che sia la qualità più che la quantità l'oggetto che sarà premiato dal mercato, ha fatto sì che si innescassero dei ragionamenti anche all'interno del mondo delle imprese e si è innescato e l'abbiamo veicolato alla pubblica amministrazione, iniziando già a parlare della variante 200 o piuttosto che di altri ambiziosi progetti che la città ha in merito allo sviluppo della stessa, che coinvolgono il concetto di Smart City. Ma tornando dove si diceva prima, ha ragione l'assessore, nella pianificazione del nuovo è più semplice raggiungere determinati obiettivi, è molto difficile di immaginare l'ottenimento di un risultato pratico sul consolidato. Certo è la frammentazione della proprietà il più grosso problema, al quale io sinceramente non ho particolari risposte, tant'è che un invito che faccio a quando si organizzassero degli approfondimenti su questa tematica, sarebbe anche un esempio interessante sentire dei notai, perché si va ad intaccare il concetto di proprietà e quindi dei trasferimenti dei diritti di proprietà, nella specificità di questo argomento non abbiamo esperienza, possiamo in parte mutuarla da quello che per molti è stato, non avendo risorse economiche ed è stato in modo particolare nel mio caso, il cambio camere, cioè un termine molto tecnico, ma si compravano le aree, non si pagavano con i quattrini proprietari delle aree, li si pagava con costruito in un rapporto di quant'area mi dai per costruire e ti do degli appartamenti. Però è vero che c'era un'attività magari contadina che doveva essere interrotta a favore di una monetizzazione della proprietà, bisogna pensare a dei meccanismi di una sorta di cambio camere, però insieme all'amministrazione magari andare a individuare delle aree dove si possa fare un ragionamento di intervento di una nuova costruzione o temporanea o magari neanche definitiva in cambio di una, e torniamo all'infotesi che faceva il professor Pagani, che bisogna prendere molto in considerazione la demolizione e la costruzione, perché se facciamo passare con troppa facilità che la riqualificazione ambientale nel processo di miglioramento degli edifici sono i doppi vetri e la caldietta a condensazione facciamo un disastro. È un po' come quando iniziavano le parabole satellitari o le caldiette, tutti hanno messo le caldiette, sono staccati gli impianti centralizzati e ci sono degli scempi nella città, non tanto sulle facciate quanto sugli interni cortili, che sono allucinati, perché tutti hanno messo la caldietta per poi capire e cambia completamente la normativa perché oggi non puoi, è vietato costruire un fabbricato con le caldiette, ci va il... No, c'è stato, faccio una battuta a livello torinese, il disastro, spero che non ci sia nessun rappresentante ex-violent, della violent, tutti ricorderete le caldiette violent, quello col contento, il fiorino col coniglietto attaccato dietro. Se non mettevi una caldietta a violent non vendevi l'appartamento, cioè c'era la mania della caldietta, era un'imposizione, non era una scelta culturale dell'imprenditore dell'impresa, mettiamo la caldietta, se no non esisteva il mercato. Allora, con troppa facilità, io al di là delle verande, delle caldiette sento il 55%, tutte cose interessanti, l'incentivazione al 55%, però facciamo degli interventi minimali, minimali e anche qualitativamente brutti, lasciatemelo dire, perché si lascia dal singolo, senza una progettazione, una programmazione, un inserimento complessivo, di risolvere e di beneficiare e diventa un risultato assolutamente scadente. Io ho fatto una provocazione collaborativa all'amministrazione di Torino, diciamo, individuiamo un pezzo di città dove facciamo un caso campione, di demolizione e ricostruzione, perché c'è la qualità del manufatto ma c'è anche una qualità urbana, perché sono case di 50 o 60 anni che saranno progettate non bene, costruite peggio. Si doveva rispondere ad un determinato, all'inizio prima, emergenza abitativa e quindi si facevano in fretta e male, ma non è soltanto un problema di manufatto, ma anche un problema di distribuzione urbanistica, di qualità urbanistica. Con l'avvento dei piani regolatori ci sono le aree verdi, i parcheggi, si sono costruiti in quegli anni, io mi chiedo, tra 30 anni, 2020, in prospettiva futura, un condominio costruito negli anni 60-70 che aveva 20 appartamenti con 6 box, perché questa era la domanda, e intorno ci sono tutti i marciapiedi inusabili, inusabili perché sono pieni di automobili, non lo risolviamo con i parcheggi pertinenziali, il problema della qualità urbana. Quella è la macchina che dobbiamo proprio abolire, ma questa è un'altra storia. Anche qui è tutto teorico, perché poi buona parte sono... Sono state costruite le città, così mi approfitto... Perché se no facciamo sempre... Mi approfitto anche per rallentarla, perché le cose che dici sono interessanti, ma andiamo troppo lunghi. Le città le avete costruite per gli automobili, sono state costruite per gli automobili negli ultimi 30 anni, non per le persone. No, adesso mi pare esagerato come... Beh no, parcheggi tangenziali... L'energenza abitativa non è la residenza di box? No, no, abitativa non c'era, infatti non era riferito a lei ovviamente, era riferito al fatto che le città sono state concepite per l'automobile negli ultimi 40 anni, si allargavano le strade, si costruivano parcheggi sotto e sopra da tutte le parti, poi quando ci siamo accorti che le automobili hanno anche delle contindicazioni... Mi consente soltanto ancora una cosa, poi passo la parola, che sulla parte della residential building viene citata, mentre invece viene citata per le public building, un concetto interessante che condivido della... si parla di verifica complessiva dello stato dell'edificio e in questo contesto viene anche inserita la sismica, che invece nel residential building non c'è. Io la inserirei perché il problema della sismica è anche questo un concetto da inserire perché è fondamentale non soltanto per intervenire dopo che avvengono le disgrazie, perché soprattutto in quegli anni le norme che dettavano i paletti per le strutture in cemento armato sono assolutamente obsolete rispetto a quelle che dobbiamo adottare oggi, quindi intervenire sui fabbricati in termini di smart building, che non è soltanto un concetto di prestazione energetica, ma è più complesso, anche l'aspetto della sismica deve essere preso in considerazione. Una battuta velocemente prima di lasciare il residential building, i soldi, il progetto anche perché il primo punto, il PPP più P, parla di gigantesco project financing. Muscetta, ce li avete questi soldi, li tirate fuori così? Lui è più tranquillo oppure… Non so se il Presidente è più tranquillo. Lei apre il cordone della borsa e vedrà che si va sereno. Il fatto è che il professor Pagani mi ha rovinato la vita con questo progetto finanziario, a parte questo, ma il concetto… innanzitutto vorrei… le tre P, la voglio declinare in modo diverso, le tre P sono PPP public, PPP private e project. Ma era un po' timoroso da come ne stavo traducendo perché la lettera P può… Ci può stare di tutto, ci può stare di tutto. A Torino poi… ma quando io parlavo dei soldi durante il workshop, mi alludevo al fatto che questo è un paese ancora adesso molto ricco. Il risparmio degli italiani quattro volte il debito pubblico. No, no, era una tosse vera, non era… non era di circostanze, era una tosse… Gli italiani potrebbero comprarsi il debito pubblico in una gira o una mezz'oretta, volessero, cioè senza nessun tipo di problema e finirla con questa storia dello spread. Quindi il problema di questo paese è cercare di attrarre gli investimenti privati su dei progetti seri. E in questo paese fare qualcosa di serio è veramente complicato. Un esempio l'ha appena fatto il Presidente. Mettiamo le caldaiette, poi era una legge, sono proibite. Cioè è una roba veramente incredibile. Allora, per evitare tutte queste controindicazioni che questo paese ha nel proprio DNA, perché questo è un paese contraddittorio, io avevo pensato al project perché il project financing è la cosa che più cerca di comprimere i rischi di un investimento che io vado ad approcciare. Per poter funzionare, quell'investimento deve prevedere, dalla nascita, le risorse necessarie che verranno messo a servizio del debito che inevitabilmente ci sarà per portare avanti quell'investimento. Se un investimento non ha questo DNA, non è un investimento, è una perdita. E non si può chiedere a nessuno di finanziarlo. Questo deve essere chiaro. Quindi il public cosa deve fare? Deve rendere conveniente quell'investimento, ma non per speculare, per sdebitare il debito che quell'investimento produrrà. E lo deve fare con la certezza del diritto, cioè non una cosa che dura per i prossimi 36 mesi e poi non si sa come finisce. Perché ultimamente guardiamo anche qualche legge retroattiva, cioè non solo per il futuro, ma per il passato. E questa è una cosa, francamente, che per chi fa degli investimenti non si può chiedere una roba del genere. L'altra cosa che mi sembrava necessario per rendere, era il discorso che faceva prima il Presidente dei Costruttori, cioè prendere un'area, un quartiere e montare su questo quartiere una roba del genere, renderlo fruibile, renderlo compatibile con le esigenze di quel quartiere. Se funziona, quella è una cosa che tu puoi esportare da qualsiasi altra parte, perché i principi sono sempre gli stessi, cambieranno gli importi, cambieranno le persone, ma il principio è lo stesso. E da qui veniva il nome di Gigantesco, perché se riesco a farlo funzionare per il quartiere della Crocetta, io poi lo posso esportare a Santa Rita, cioè non c'è nessun problema, i principi sono quelli. e quindi fare anche da traino a dire, è una cosa che si può fare, l'abbiamo fatto, funziona. Per fare tutto questo però bisogna disboscare tutti i contrasti normativi, le leggi, le leggine, il decreto del Presidente della Repubblica del 1912 che vieta questa cosa qui, perché una delle cose che questo Paese non tiene conto è il tempo. Cioè in questo Paese il tempo è una variabile che non ha nessuna importanza. Io siccome faccio i bancari, ricordo a tutti che il calcolo degli interessi, per il calcolo degli interessi, una delle componenti è il tempo. Capitale per tempo, ecco. Quindi... No, perché qui... Quando scadono le cambiate... Se la faccio quest'anno... Se la faccio quest'anno, fra tre anni è uguale. E' che la coniezione del tempo sembra persa per altri aspetti. Sì, sì... Per la forma che ci racconta, per cui sembra che cambi tutto non cambia niente, però capisco che... Allora, io dico, l'altro principio basilare del project è che quando ha finito di pagare il debito, quelle risorse vanno nelle tasche di che ha fatto l'investimento. E quindi rende, come dire, appetibile investire in un progetto come questo. Questo era la mia idea. Che... Mi rendo conto... Può anche essere... Come dire... Può avere un pizzico di fantasia. E per un bancario la fantasia è una cosa drammatica. In realtà è una finanza creativa, no? Non è quella lì. Però... Si può ragionare su una cosa... Siccome qualche cosa è stato fatto, si può vedere di farlo. Sì...